Con Andrea Rossi, coordinatore dell'Ecomuseo del Casentino, parliamo un po' di quelle che sono le iniziative della Primavera dell'Ecomuseo. Iniziative comunque molto importanti e che hanno varie argomentazioni e che coinvolgono un po' tutto il territorio. Sì, la filosofia appunto dell'Ecomuseo è quella di coinvolgere a diverso titolo un po' tutte le antenne che ne fanno parte, esplicitando quelli che sono i contenuti specifici ma allargandosi poi ad altre tematiche e quindi accogliendo anche iniziative che portano a un'interpretazione diversa del patrimonio locale. Quindi da una parte ci sono iniziative che vanno verso la presentazione di progetti, di attività, di ricerca fatte con le scuole, fatte con diversi ricercatori, quindi una restituzione al territorio. E d'altra parte poi ci sono altre iniziative che invece rimandano a tematiche anche più ampie. Questo sempre nell'ottica di una valorizzazione che passa prima di tutto attraverso il coinvolgimento degli abitanti. Cammina la storia sta a indicare proprio la dimensione attiva di riappropriarsi della storia del nostro territorio. E tra l'altro con questo slogan c'è un progetto dietro che l'Ecomuseo sta perseguendo, quello di attraverso la definizione di percorsi, di sentieri che partono dalle singole antenne andare a recuperare anche quello che è il patrimonio diffuso presente sul territorio. Quindi un sentiero, un percorso per ogni struttura attraverso appunto una rete che si dirama sul territorio andando a riscoprire poi i segni legati al passato ma anche al presente. Ecco, queste strutture quindi resteranno aperte anche un orario maggiore rispetto a quello che di solito è nel calendario in questo periodo? Sì esatto, di solito le strutture dell'Ecomuseo hanno un orario prolungato nei periodi estivi. Già comunque dal mese appunto di maggio andando incontro all'iniziativa di Amico Museo della Regione Toscana ci sarà un prolungamento delle aperture delle varie antenne nelle domeniche del 18 e 25 maggio e del primo giugno. Ecco, per chi volesse avere il calendario delle iniziative dove lo può trovare? Il calendario è distribuito abbastanza capillarmente sul territorio nelle diverse antenne e poi comunque consiglio di fare riferimento per il programma dettagliato delle iniziative al sito dell'Ecomuseo, ecomuseo.casentino.toscano.it Il Comuseo del Casentino è l'esempio di quello che dovremmo fare in futuro, lo strumento dell'Ecomuseo riesce a tenere insieme su un progetto di promozione, di valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali, tutto il territorio, da Stia fino a Subbiano. Quindi è l'esempio di quello che vorrei e vorremmo fosse il Casentino in futuro, un territorio messo a sistema che potesse ragionare e collaborare su varie tematiche.